ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il norcane wild one avevo già recensito un orologio norcane in tempo passato se vi interessa andate a rivederlo anche perché proprio in quel video spiego chi c'è dietro qual è l'azienda come è strutturata insomma per farla in soldoni norcane è un'azienda nata nel 2018 che si è presentata sul mercato italiano solamente lo scorso anno ma non si tratta di un micro brand o di un brand improvvisato a comando ci sono tutti i personaggi che fanno parte dell'industria orologiera svizzera anche compreso breitling gente che è stata a capo o nel board di varie case insomma fanno parte del business e danno anche un legame con Kenissi volendo a quanto pare mi sembra che si sta facendo rapidamente strada tra gli appassionati e sta ricevendo un notevole consenso nonostante i prezzi non siano proprio popolari ed oggi ho deciso di portare sul canale questo orologio perché a parer mio rappresenta un bel concentrato di qualità costruttiva innovazione estetica insomma ritengo sia un orologio piuttosto innovativo pur restando nella classicità non sono tanto avezzo a questi materiali così diciamo esotici però sto incominciando ad apprezzarli a dire il vero cioè il mio gusto quest'anno sta leggermente cambiando vedi anche Panerai che stanno incominciando quasi a convincermi quasi eh non vi allargate troppo ma stanno incominciando e lo stesso dicasi per i materiali particolari come vedremo poi in questo Wild One che presenta delle soluzioni tecniche e dei materiali che sono di tutto rispetto e mi strappano un sorriso quando quando vedo queste cose poi vedrete poi nella recensione chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dalla gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che è partner ufficiale del canale e vi offre un trattamento di favore particolare a me mette a disposizione gli orologi è concessionaria del marchio e anche di altri marchi quindi fate un saltino sul loro sito web spediscono il tuo dettaglio andate tranquilli su quello non ci piove detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è il mio bellissimo Omega Speedmaster il Moonwatch 42 mm di diametro cassa l'ultima versione quella con doppio vetro zaffero calibro 3861 a carica manuale ma con scappamento coaxial certificato metas addirittura proprio preciso come un orologio svizzero adesso dai bando ai discorsi giriamo la camera guardiamo la panoramica su il wild one e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come di consueto con i risultati delle misurazioni ottenute diametro cassa 42 mm spessore 12.5 mm ingombro trasversale al polso 49.2 e interasse ansa da 21 mm iniziamo col dire che la misura cassa è stata presa alle ore 10 e 20 e non è stato agevole vi sono diverse protuberanze che impediscono una corretta misurazione il diametro lunetta che è invece facilmente misurabile è di 41.7 mm ed è quello che determina l'ingombro visivo al polso non è certo il caso di tenere in considerazione quel segmento sporgente ad ore 9 non contribuisce all'ingombro ma determina fortemente lo stile dell'orologio un design moderno contemporaneo ma allo stesso tempo che riprende la classicità degli orologi come li conosciamo da sempre voglio dire si capisce subito che si tratta di un orologio che fa dell'innovazione la propria carta vincente ma ciò che voglio sottolineare è come riesca a farlo senza stravolgere il concetto di orologio e di leggibilità cerchiamo quindi di capire di cosa si tratta quali sono le peculiarità intanto è realizzato in norte una fibra di carbonio e polimeri brevettata da norkane e la cassa è composta da ben 25 parti separate componibili va da sé che la possibilità di colore e di abbinamenti sono un altro punto forte in fase di produzione ma il focus dell'orologio ad essere interessante ossia un segnatempo realizzato per resistere agli urti fino a 5000 g impermeabile fino a 200 metri leggero e completamente antimagnetico andiamo a leggere la conformazione della cassa la lunetta realizzata in nortec a livello estetico è quanto di più essenziale possa esistere ma è l'effetto marmo del materiale utilizzato a renderla particolare quelle venature di differente tonalità che pervadono tutta la sua lunghezza attenzione però non si tratta di un elemento separato è realizzata in un unico pezzo assieme alla cassa giriamo l'orologio e guardiamo la parte inferiore a prima vista non si riesce a capire se sia un fondello a vite o a pressione niente di tutto questo le quattro viti sono posizionate nella parte inferiore delle anse facendoci capire che tutta la parte inferiore è un pezzo unico che si va ad avvitare alla parte superiore lo si vede da quella linea di separazione frammentata che ci indica l'unione del guscio superiore a quello inferiore e mezzo cosa c'è un contenitore in materiale polimerico che ha il compito di isolare il meccanismo interno dagli urti violenti in pratica tutto quello che qui vedete in verde militare è in gomma lo si nota andando a toccare le superfici che ci restituiscono la morbidezza propria del materiale sia sui lati che in quella piccola separazione attorno al trasparente inferiore ma è presente anche sulla parte superiore attorno al vetro zaffilo principale dirò di più facendo una certa pressione sul vetro si percepisce anche se leggermente la sensazione elastica data dalla funzione ammortizzante della gomma ma in tutto questo come viene garantita l'impermeabilità di ben 20 atmosfere semplicemente grazie al fatto che il movimento e il quadrante sono solidali e inseriti all'interno di un cilindro in titanio la parte grigia che si vede è appunto quel cilindro da notare che poi le quattro viti inferiori sono cave e le quattro superiori fungono da maschio ma senza testa sono perfettamente integrate nella superficie superiore che le tiene ferme nel momento in cui si va a svitare dalla parte inferiore riassumendo e semplificando abbiamo una gabbia in carbonio che contiene un ammortizzatore in gomma che contiene un cilindro in titanio trovo che siano questi gli sforzi tecnici che possono regalare un mezzo sorriso a noi appassionati detto questo non resta che parlare di ciò che è all'interno del cilindro in titanio ossia il calibro nn 21 che altri non è che la versione domestica del calibro in house utilizzato da tudor da bretling e da una manciata di altri nomi realizzato dagli stabilimenti che nissi viene qui proposto con delle finiture definibili al passo con lo stile contemporaneo del wild one si noti come tra i tre quello più classico sia il b20 mentre gli altri due puntano maggiormente sulla modernità si tratta concludendo di un calibro certificato cosc e di qualità indiscutibile ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al quadrante anche qui nonostante l'apparenza classica troviamo una particolarità degna di nota si tratta di un quadrante realizzato tramite taglio laser 3d che vede tre livelli sovrapposti distanti 5 centesimi di millimetro l'uno dall'altro va da sé che la tridimensionalità è particolarmente caratterizzante in quanto restituisce profondità e dinamismo al fondo da segnalare che il pattern evidenziato non è altro che la ripetizione del logo norkane le due n ripetute che però non appaiono così evidenti e si vanno a confondere creando forme geometriche alternative questo è visibile solamente ingrandendo le immagini da lontano la sensazione è differente un effetto che trovo affascinante da segnalare che anche le sedi rialzate degli indici fanno parte della struttura del fondo ed essendo quindi realizzate a controllo numerico tramite laser possono godere della precisione di posizionamento al millesimo non si è fatto altro che applicare dei contorni metallici su questi rialzamenti e contrappuntarli con un dot in superluminova in linea con lo stile avanguardista troviamo poi le sfere scletrate di foggia tutto sommato originale anche queste presentano un accento di superluminova che va a riempire solamente la parte terminale in linea generale la leggibilità è buona non di certo eccellente ma tutto sommato accettabile quando si hanno gli indici metallici come in questo caso occorre sempre spostare leggermente il polso per metterli in mostra non essendo un orologio deputato alle immersioni gli possiamo perdonare anche qualche mancanza a livello di luminescenza bene le sfere e bene quella dei secondi che ci restituisce il corretto funzionamento meno bene i piccoli markers lungo il rio va da sé che l'orario si legge ugualmente niente di così grave per una volta poi apprezzo la scelta del cintrino tecnico in luogo del bracciale credo che in un orologio votato così allo sport e all'avventura sia necessario e comodo avere un cinturino all'altezza e così è in gomma con la parte interna nera e liscia e quella esterna verde a trama simil maglia milanese si congiunge alleanze integrandosi stilisticamente alla cassa ne aumenta il sapore contemporaneo e lo stile tecnico da segnalare la fibia di carbonio un bel tocco di continuità di materiali ma purtroppo il passante è in semplice gomma ma diversamente non sarebbe stato possibile possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali è chiaro che il passante in gomma così deve essere d'altronde il cinturino è dello stesso materiale in gomma però però io ci avrei visto meglio un'altra soluzione anche un pochino più in linea con il pregio dell'orologio ossia una deployant una deployant che in modo che quando apri l'orologio te lo fa rimanere al polso senza il rischio di perderlo un orologio sportivo così robusto magari in titanio in titanio scuro che si addice bene ai materiali tecnologici della cassa d'altronde il cinturino di titanio c'è all'interno volendo ma tant'è per il resto orologio super promosso queste soluzioni tecniche mi entusiasmano quasi lo devo dire cioè mi faccio entusiasmare come un bambino mi strappano un mezzo sorriso di felicità perlomeno mi danno l'idea che qualcuno sta cercando di fare anche qualcosa di differente no e volendo volendo anche che sto spendendo i miei soldi in maniera giustificata che non è vero perché costano sempre tantissimo questi orologi però un piccolo appiglio c'è esteticamente parlando mi dà l'idea di un orologio da ricchi avevo già espresso questa butade questo concetto così terra terra veramente caffone quando l'avevo preso in considerazione il negozio che me l'aveva fatto vedere giacomo in quel caso era bianco e nero ecco bianco e nero secondo me è ancora più bello di questo verde e nero mi dà proprio l'idea di un orologio di pregio alla moda diciamo anche così insomma un orologio particolare in soldoni un orologio moderno contemporaneo super resistente che va incontro ai gusti di chi vuole qualcosa di particolare e secondo me in futuro sentiremo ancora parlare di questo brand a parer mio or can si farà strada boh mi sembra di aver detto tutto non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua ed aver guardato il video con me vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love